Questo video riguarda i migliori 3 microscopi. Il vincitore della qualità è il Kern Microscopia. Il OBN-13 Kern è un microscopio da laboratorio eccellente e stabile per tutte le più comuni applicazioni di routine, in grado di produrre immagini straordinarie. La dotazione standard di questi microscopi trinoculari include oculari grandangolari con ampio campo visivo, compensazione delle diottrie sui due lati e obiettivi planacromatici a correzione infinita. L'illuminazione di color professionale è semplice da impostare. Include un diaframma di campo luminoso regolabile e un condensatore abbecentrabile e regolabile in altezza con diaframma di apertura regolabile. In tal modo si ottengono immagini straordinarie sia in campo oscuro che in campo chiaro. Una torretta portaobiettivi a 5 posti e un ampio tavolino portaoggetti sono inclusi nella dotazione standard. Sono disponibili i seguenti accessori opzionali, svariati oculari, obiettivi, un kit di polarizzazione completo, un condensatore con lente ribaltabile, vari set per la microscopia a contrasto di fase e kit di montaggio fluorescenti a LED HBO. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Bebang Microscopia. Tre obiettivi acromatici montati in una torretta girevole e due oculari, due lenti di Barl. Il microscopio biologico offre 10 livelli di ingrandimento. 40x 100x 250x 400x 1000x barra 80x 200x 500x 800x 2000x. Il microscopio ha un LED incidente e trasmesso con luminosità della sorgente luminosa regolabile ruotando la manopola, che può vedere sia oggetti opachi illuminati dall'alto sia campioni traslucidi illuminati dal basso, è facile da usare. I microscopi monoculari con strutture in metallo solido e manopole di messa a fuoco grossolana fine, garantiscono dettagli e una regolazione precisa della messa a fuoco, creano un'immagine più chiara e nitida. Il microscopio viene fornito con un adattatore telefonico che consente di visualizzare immagini sul telefono, condividere foto o video con familiari e amici in tempo reale. Il vincitore del premio è il Bebang Microscopy. Oculaire Grand Angle WF10 più WF25, lentille barra movibile, grossi cement 40x a 2000x. Fabbriche in metal, mailer e qualité, mailer talker. Con due fonti di luce nella parte superiore e inferiore, è possibile vedere meglio il campione e vedere più tipi di campione. Inoltre, il filtro a sei colori di tipo quadrante si collega al mondo di vari microrganismi colorati. Due modalità di messa a fuoco grossolane e fini, tubo oculare inclinato a 45 gradi, testa monoculare ruotabile a 360 gradi. Le luci dimerabili possono adattarsi alle diverse intensità del sole. Supporto per smartphone, tapparella, set di ricerca, set di preparazione, è adatto per bambini delle scuole elementari e per principianti appassionati di adulti, scuola, laboratorio, casa, lezioni individuali. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.